partiti il leggero ritardo Royal Game in vantaggio si porta Harvey Bullock nei confronti di Captain Dream con all'esterno Happy Dream poi ancora Prince Red seguono Sambuco Paco Douglas è staccato in segue Royal Game Cavalli ora lungo la curva con Harvey Bullock in vantaggio in seconda posizione si è sistemato Happy Dream davanti a Captain Dream con all'esterno Prince Red ancora Sambuco con all'esterno Paco Douglas Cavalli ora in retta di arrivo Harvey Bullock sempre in vantaggio al suo inseguimento Happy Dream per linee interne Captain Dream più all'esterno e Prince Red con all'argo Sambuco e all'esterno di tutti Paco Douglas siamo a 350 dal palo Happy Dream attacca a fondo Harvey Bullock che cerca di reagire al suo interno a largo sono Prince Red e Sambuco sta passando Happy Dream nei confronti di Prince Red nel tratto conclusivo Happy Dream sta mantenendo saldamente la meglio su Prince Red al terzo posto ancora Harvey Bullock su Paco Douglas andiamo a rivedere le immagini con il numero due Happy Dream favorito dalla corsa Dario Vargi in sella a Bessaglio nel finale ha controllato il tentativo di Prince Red con Luca Maniez in sella che ha conquistato un buon secondo posto alla terzo rimane in quota il numero tre di Harvey Bullock quindi due cinque tre il probabile ufficioso arrivo della terza di Napoli a in 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 Grazie a tutti.